Ehi Whitey, che ne dici se andiamo alla spa? Oh, è una bellissima idea, Indy! Beh, allora partiamo! Salve, vorremmo prenotare due posti per la spa. Prenotare oppure venire subito? Oh, se ci basta potremmo anche venire subito, vero Indy? Oh sì, Whitey. Ecco, accomodatevi, questi sono i vostri posti. Oh, grazie signorina. Oh, niente, chiamatemi pure Tempesta. Oh, grazie Tempesta. Accomodatevi pure e poi quando volete iniziare il trattamento benessere, chiamatemi. Non è comodissima questa sedia? Oh, sì. E poi guarda, è tutto pieno d'acqua in modo tale che i nostri zoccoli non si sporcano mentre facciamo il trattamento. Oh, già. Possiamo iniziare? Oh, certo, certo. Ok, allora iniziamo. Allora, qui è tutto il mio corrente. Ecco, iniziamo con una bella spazzolata di capelli. Ora anche a lei, signorina. Un'ora dopo. Ok, siamo pronte. Ok, allora, potete decidere se mettere questa bellissima coperta rosa oppure questa cintura sempre rosa. Ma io prenderei la coperta, ecco. Ok, ora te la metto subito. Oh, ma è stupenda. Ah, vabbè, tanto io avrei scelto la cintura comunque. Me la metto subito. Ti sta veramente bene? Oh, grazie. Poi, dato che sono una stilista, magari ci attacco a un bel pezzo di stoffa colorata e ci faccio venire una bella gonna. Ma sarebbe una bellissima idea. Oh, grazie. Beh, io metto un po' a posto qui, tanto abbiamo finito, no? Oh, sì, certo, abbiamo finito. Anche perché non possiamo rimanere qui tutta la giornata. Ci sono dei nostri amici e i nostri figli che ci aspettano. Bene. Allora, andate pure. Vi aspetto tanto, spero che tornate. Oh, sì, torneremo di sicuro. Anche perché costa pochissimo. Oh, infatti costa pochissimo questa spa. Eh già, l'abbiamo fatta costare apposta, così poco. Così non... Così vengono più clienti. Oh, che bell'idea. Eh già, che bell'idea. Ora noi andiamo. Infatti. Arrivederci.